Questo lavoro va avanti dal 2013, conta circa 50 immagini, queste nuove immagini che sono esposte sono un estratto di questo lavoro. È un lavoro che rappresenta il paesaggio primordiale, quello che rimane mutato nei secoli, nei millenni, ed è proprio questa l'idea intorno alla quale ho lavorato. Quella proprio di comunicare in chi osserva quella sensazione di trovarsi davanti a un paesaggio senza tempo. E come vediamo anche in questa mostra non esiste un solo linguaggio fotografico, esistono tanti linguaggi fotografici e sono tutti comunque la proiezione dell'interiorità del fotografo. Perché fotografare è sempre fotografare in due direzioni, il fotografo che guarda ma anche ciò che viene fotografato che entra dentro il fotografo. Grazie Grazie Grazie